La nostra cooperativa è nata con una voglia di ricostruire la vita lì in zona di Srebrenica, dove 1995 è stato il più grande massacro dopo seconda guerra mondiale in Europa. I suoi prodotti si chiamano Frutti di Pace. In un piccolo vasetto di marmellata o in un succo di frutta, c'è la ritrovata possibilità di convivenza tra due etnie un tempo in guerra. La cooperativa Insieme, di cui Rada Zarco, vicepresidente, ha sede a Bratunazza a pochi chilometri da Srebrenica, in Bosnia e Herzegovina, tristemente nota per la strage del 1995. Con fatica Rada e un'altra decina di soci hanno costituito questa cooperativa per dare a donne sole, a volte con figli da mantenere, la possibilità di lavorare e di avere un futuro. Dopo la guerra i maschi, una parte non c'erano più, e l'altra parte, tornata dalla guerra, con tutte, si può dire anche malattie, che lascia le guerre, si permettevano di stare a casa e lamentarsi. Donne invece non hanno mai tempo per stare a casa, guardare un muro bianco e lamentarsi. Donne devono pensare delle loro famiglie, come portare avanti la vita della sua famiglia, e donne sono state costrette di pensare di un futuro. Ora dà lavoro a 500 famiglie e produce marmellate e succhi da piccoli frutti coltivati, lamponi, more, fragole e mirtilli, che sono frutti di pace. Con queste marmellate, i cuochi del Circolo Arci fuori orario di Tanetto di Gattatico hanno cucinato la crostata, servita durante la cena incontro, in cui Rada ha parlato della sua esperienza insieme a Coop Consumatori Nordeste. Perché da oggi i prodotti della cooperativa Insieme sono sugli scaffali di supermercati e i permercati Coop di tutta la provincia. Dopo dieci anni siamo contenti di dire che possiamo offrire al mercato non materia prima, come di solito si fa da paesi in situazioni come i nostri, noi possiamo offrire anche un prodotto finale, un prodotto che ci porta dentro il suo contenuto, la nostra tradizione, le nostre conoscenze, anche i nostri amori, le nostre nostalgie, un po' di nostra anima.